Oggi vi do qualche consiglio su come scegliere e come acquistare i fiori di zucca. Beh, la freschezza si giudica dalla loro integrità, perché se non sono freschi è inutile acquistarli. Il fiore deve essere ben gonfio, con i margini distesi, senza alcun segno di appassimento. E il calice deve essere appena appena aperto. Attenzione però, perché i fiori delle zucchine venduti a mazzetti sono invece i fiori maschili, particolarmente adatti per esempio per friggerli, ripieni o con la pastella. I fiori femminili invece sono ben aperti, sono segno di freschezza della zucchina, possono invece essere cucinati insieme alle zucchine stesse. Conservare i fiori di zucca in frigorifero nello scomparto della frutta e verdura. Essendo molto delicati non si mantengono all'undo, quindi consumarli entro uno o due giorni dall'acquisto. Ciao, mi chiamo Alessandro Zou, sempre più spesso senti parlare del successo della Cina. Anche in Italia noi cinesi siamo tanti e facciamo un sacco di cose. Hai mai pensato di fare affari con noi cinesi? Ho avuto un'idea meravigliosa. Alessandro Zou, sempre più spesso senti parlare del successo della Cina. Alessandro Zou, sempre più spesso senti parlare del successo della Cina.